La figura di San Paterniano, insomma, per i fanesi, per chi ha studiato un po' la tradizione, è una figura sacra. Probabilmente la prima figura di Vivescovo in questa città in anni difficilissimi, le persecuzioni di Ocleziano, poi l'editto di Costantino di Milano, insomma, che dir si voglia, che ha liberalizzato il culto, ma ha significato anche da quello che si legge dalle scarse notizie la figura di un santo eremita che si è prestato, perché i cittadini lo reclamavano, a governare questa comunità per un quarantennio. Figura molto amata, non solo nella nostra terra, e quindi è una festa, una festa sacra, una festa popolare, un divertimento, perché la piazza se ne verrà di notte, colori, e poi con questa estrazione che si collega anche un po' alla fortuna, tuttavia c'è un altro scopo benefico, che è la carità, la solidarietà, quindi proventi di questo monte premi, che è importante, perché se gira sui 2 mila euro, il monte premi, i proventi vanno per opere di bene a disposizione del Vescovo e a disposizione dei frati di San Paterniano. Un atteso appuntamento a tutti gli anni, è diventato una tradizione imprescindibile dell'estate. Sì, noi abbiamo già, diciamo, i ragazzi che stanno vendendo i biglietti, con questa maglietta gialla, e, diciamo, tutti sono autorizzati a vendere i biglietti già in giro, poi domenica sarà il clou della tombola. Ecco, ci sarà la vendita fino all'ultimo momento, quindi, insomma, chi magari ne è provvisto può farlo anche la sera stessa. Sì, 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 no, la sera stessa poi, diciamo, aumentiamo anche i ragazzi, quindi ce ne saranno parecchi in giro. Allora, la presenza, insomma, in una piazza così bella della città, la Carifano, si affaccia proprio sul teatro dell'avvenimento e quindi non può non essere. Assolutamente sì, perché lo sponsor era duopo, come fossimo noi, tra le altre cose, visto che siamo il retropaico, in qualche maniera, di questa manifestazione. Ma al di là delle battute, ci fa estremamente piacere continuare in questo sulco, ormai tracciato da diversi anni, di collaborazione per questa festa importante per Fano, importante per, come diceva il vice sindaco prima, ma anche per gli scopi benefici di questa cosa, che viene in aiuto alle varie attività che svolge comunque la comunità di San Paterniano, che in questo momento storico sicuramente è molto, molto importante. E non secondo, perché siamo comunque sia Carifano che il gruppo di credito valtenese, essendo ormai una banca ultracentenaria, voglio dire, perché non legarsi alla manifestazione più centenaria di Fano, in qualche maniera.